La sindaca Virginia Raggi ha visitato Amatrice ed Accumuli e le popolazioni colpite dal terremoto dell'agosto 2016. Sono stati presentati quattro progetti finanziati anche con i fondi raccolti da Roma Capitale attraverso l'iniziativa di solidarietà Roma adotta Amatrice. Saranno realizzati ad Amatrice, Accumuli, Arquato del Tronto e Norcia. La Libera dal Campidoglio ha la promozione online di artigianato, manifatture e gastronomia locali. Con una vetrina sul web dedicata al Made in Rome, si punta a valorizzare, sostenere e incentivare lo sviluppo territoriale, creando un punto di incontro tra produttori e pubblico internazionale. Firmata la convenzione tra Roma Capitale e i proponenti per la riqualificazione di piazza dei navigatori e Viale Giustiniano Imperatore, dopo 15 anni l'amministrazione capitolina si riappropria di risorse, 17 milioni di euro, che saranno impiegate nel territorio del municipio ottavo per opere previste e mai realizzate. avviata anche una fase di consultazione con i cittadini.